Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è, come avete letto dal titolo, un get ready with me ed è un get ready with me in cui vi faccio vedere un trucco che realizzo con questa palette qui che è una palette di Kiko, un po' vecchiotta è la Color Impact Shadow Palette, la numero 2, Street Top Variation che è quella con il packaging che era uscito rosa e i colori sono questi qua, ve li faccio vedere subito sono questi colori sul grigio, top, nero, questi colori un po' che avvertono sui look smokey e ho appunto realizzato questo make-up che mi avevate chiesto in un altro video vecchio, mi pare che sia un vlog e io spero veramente di aver azzeccato lo stesso make-up perché sinceramente non mi ricordavo, non mi ricordo se ho usato gli stessi colori o meno però più o meno, più o meno, il make-up è questo quindi spero che apprezzate il fatto che vi sto facendo questo get ready with me e godetevi il video e innanzitutto il primer che è sempre lo stesso, è sempre quello di Essence l'I Love Stage allora, di cosa parliamo oggi? allora, parliamo innanzitutto del fatto che vi ringrazio che avete apprezzato la presenza di Samuele nei video vi ringrazio molto e spero presto che lui avrà un canale tutto suo perché insomma è molto bravo poi volevo parlarvi un attimo della questione YouTube che sta diventando un po' un problema perché secondo me sta mettendo troppe 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 restrizioni allora, adesso prendiamo un pennello di quelli per l'ombretto se riesco a trovare un pennello adatto a quel colore prendiamo il primo colore allora, il primo colore che io applico è questo qua se non mi ricordo male se non mi ricordo male dovrebbe essere questo questo colore qua questo qui ah, il dito che non si capisce se è un grigio se è un un nero oro insomma non si capisce vedete, è a metà tra un grigio un nero un oro è un po' strano eh, come colore allora, volevo chiedervi una cosa vi interesserebbe vedere diversi look alcuni look per Natale per le feste natalizie quindi per maggiormente per Natale Capodanno ecco, però ve lo chiedo a voi perché già ci sono tante 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 richieste nel frattempo aggiungo anche una punta di questo qua perché ci sono tante tante richieste quindi io non vorrei arrivare a fare delle cose che poi a voi non interessano ok adesso con un pennello di questi qui a sfumatura vado a prendere questo qua che è il colore praticamente più scuro opaco e vado a fare appunto la parte finale del trucco sfumando con uno pulito vado a sfumare bene la parte superiore adesso prendo il colore argento che vado a fare la punta qui il punto luce vado poi a riprendere il colore questo qua questo ci faccio la rima sotto l'effetto di questo mascara mi piace tantissimo peccato che bisogna stare un pochino attenti perché ci si può sporcare nella parte sopra allora adesso vado a fare la mia base ovviamente perché non l'ho fatta e utilizzo il mio solito fondotinta di L'Oreal che sto terminando e che sicuramente andrò a ricomprare in tonalità 22 beige Eclat è il fondotinta che mi è sempre piaciuto e ultimamente mi sta avvenendo l'abitudine di fare la base dopo dopo aver truccato gli occhi anche perché con questa palette qui che è piena di glitter è facilissimo fare fallout infatti l'avete visto cioè ero piena di glitter facendo in questo modo i glitter spariscono nel momento in cui si mette il fondo ok adesso cipria come blush to faced questo qui è your love is ring is king scusate è questo colore qua è questo pescato salmone cioè quel colore che va un po' bene con tutto non lo metto proprio sulla guancia lo metto un pochino sotto ecco qua abbiamo finito mancano solo le labbra nelle labbra metto nelle labbra metto questo che è il mi spupa che vi ho fatto vedere anche l'altra volta nel log ecco qua è uno di quei rossettini che vanno bene con tutto e niente il make up è questo qui io spero che vi sia piaciuto certo non ha niente di di reglatante non è niente di nuovo è un trucco già visto però mi piaceva condividervelo mi raccomando lasciate tanti like commentate se appunto volete che vi faccia dei trucchi natalizi oppure dei trucchi di capodanno datemi un po' di indicazioni così poi magari ve li faccio vedere e niente io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao